Ciao a tutti amici di Golf Project. Ciao! Allora, stiamo registrando le Winter Series. Winter Series, ragazzi, esercizi per l'inverno, ma noi si va in Spagna, si fa la clinica. Esatto, ma dato che c'è stato un tutto esaurito e noi siamo troppo contenti per questo, del nostro viaggio in Spagna a fine febbraio, abbiamo deciso, per chi non è potuto venire in Spagna e non verrà in Spagna, di organizzare una clinica in Marocco, a Marrakesh, a fine marzo. Quindi avrete tutto il tempo per organizzarvi, per notare. Entro una settimana, settimana prossima vi manderemo tutto il programma dettagliato. Sicuramente faremo 5 giorni di Golf Clinic su 5 campi diversi, quindi stiamo selezionando i migliori campi. I campi migliori che ci sono a Marrakesh e dintorni. Ovviamente noi giocheremo con voi in campo. Come al solito, lezione la mattina e poi in campo insieme a noi il pomeriggio. Stiamo cercando anche una ottima location che sia nel posto migliore per gestirci. Quindi ragazzi, che altro dirvi? Dovete solo aspettare. Scrivete sotto qua i commenti. Se volete venire iniziate a scriverci così noi iniziamo a prendere un po' le prenotation. Esatto. E intanto vi aspettiamo per una Marrakesh perfetta!